Le nuove tecnologie consentono di arrivare in tempi rapidi e con facilità a un pubblico potenzialmente molto ampio, consentono però, poi c'è bisogno di avere prima di tutto un'idea forte, distintiva, secondo un pubblico di riferimento, sapere a chi ci si rivolge, Internet come si sa è un luogo soprattutto di nicchie, di piccoli gruppi, non è vero che Internet è il luogo della massa. Adesso tutto quello che noi scriviamo ottiene delle risposte in tempo reale, sui blog, con i post sui blog, con post da ogni parte, sui social network, praticamente c'è un dialogo continuo tra lettori e fra chi fa i giornali. C'è un problema anche di controllo della qualità dell'informazione che ovviamente si pone dal momento in cui tutti un po' giochiamo a fare i cronisti sui nostri social media di riferimento. Io credo che rispetto al festival il fatto che ci sia un dibattito intorno agli eventi su questi mezzi è molto bello, perché se le persone possano dibattere al di là del luogo fisico in cui sono in un certo momento, questo è un elemento di grande valore. C'è anche questa rete di persone che parlano tra di loro, uno è qui per parlare con gli altri. Ci deve essere la curiosità dell'uomo che decide quale tecnologia può essere più efficace, di che cosa abbiamo davvero bisogno. Mi serve naturalmente per tenermi aggiornato, per avere dei punti di vista diversi, anche da fonti molto autorevoli e in maniera rapida e immediata. Dall'altra parte mi serve per confrontarmi con il pubblico. in barba a tutti i canali televisivi, a tutti i network, a tutti i sistemi dei media, fondamentale è il rapporto umano, la comunicazione, il confronto.